La battuglia delle 450 auto storiche già in cammino, partita ieri da Brescia, domani la Mille Miglia arriverà a Roma prima di puntare di nuovo verso nord per il percorso di ritorno. Preceduti dalle auto elettriche della Mille Miglia Green, i veicoli d'epoca raggiungeranno Villa Borghese e poi Via Veneto. La strada, lo ricordiamo, è già chiusa in una direzione, domani la chiusura verrà ampliata in entrambi i sensi di marcia, previste deviazioni per nove linee di bus. Sempre domani dalle 14 alla mezzanotte per lo stop alla viabilità all'interno di Villa Borghese, le linee 61 e 160 verranno limitate a Porta Pinciana, mentre altre sei linee di bus saranno deviate su percorsi alternativi. Tutti i dettagli su romamobilita.it